Buongiorno a tutti e benvenuti a questo corso per corso che abbiamo organizzato come regione nel contesto più ampio del piano regionale per il governo delle liste d'attesa 2019-2021 e del piano operativo per il recupero delle prestazioni che inevitabilmente sono state sospese o ridotte durante il periodo Covid. In questa revisione e nello sviluppo del piano abbiamo previsto la sperimentazione della prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali direttamente dai medici specialisti sostanzialmente per dare un feedback rapido diretto nell'interazione con il paziente nel momento in cui gli si programma un controllo a distanza con la possibilità di vedere la disponibilità dell'agenda e la compatibilità di questa disponibilità dell'agenda con la situazione clinica, il quadro clinico del paziente perché sappiamo bene che alcuni pazienti possono aspettare un po' di più, alcuni meno e quindi invece che lasciare le scelte in qualche modo vincolate alle disponibilità dell'agenda, questo consente di confrontarsi sia sulle dimensioni cliniche sia con le aspettative connesse al paziente. Dall'altra parte in questa sperimentazione che si è sviluppata nei mesi scorsi e si è conclusa positivamente si è sviluppata anche la possibilità della prescrizione delle ricette dematerializzate per le prestazioni, per la prescrizione farmaceutica. Quindi in qualche modo poter dare due strumenti agli specialisti, uno sicuramente più agile di interazione con il paziente che può consentire una semplificazione, una velocizzazione del rapporto con il paziente stesso e dall'altra anche la possibilità di prescrizione diretta. è chiaro che qualcuno può ritenere che questo possa essere un aggravio, diciamo, amministrativo. Intanto è sicuramente una opportunità, una possibilità che vediamo di sviluppare al meglio. Siamo anche in linea con l'operatività quotidiana che ormai siamo abituati a fare anche con rapporti con altri uffici o con i nostri smartphone. Quindi ormai distinguere prestazioni amministrative, prestazioni sanitarie, interazioni con il paziente, l'importante è che siano rapide e noi abbiamo ben chiaro che il successo dipende da un clic in più o un clic in meno. La sperimentazione che abbiamo condotto proprio per mettere a punto il sistema ha dato ottimi risultati sia sul fronte degli specialisti e dei medici che sono stati coinvolti sia sul fronte dei pazienti. La tecnologia ha retto bene, si è rivelata duttile e facile da utilizzare, ma su questo adesso ci confronteremo e vi confronterete anche voi nella convinzione che questo possa aiutare tutto il sistema ad essere più performante. Nello stesso tempo consentire anche a voi specialisti di gestire un rapporto con questi pazienti, con i pazienti decisamente più diretto e completo. Il corso dura un'ora, io credo che anche nel confronto della predisposizione di questo corso c'è stata grande attenzione nella semplicità, nella facilità, nel concetto di smart come approccio e spero che possiate apprezzare anche questo tipo di sforzo che è stato fatto nel rappresentare e nel percorrere insieme questa via. In tutto questo vi ringrazio della partecipazione, dell'attenzione e vi auguro buon lavoro. Arrivederci.